Buongiorno, questa volta ce l'ho fatta Finite! C'è il finire di capire la pasta Con la macchina andare a destra e a sinistra a zig zag veloce Vabbè, per farmi cannare il vlog Comunque, questa volta ce l'ho fatta, ho iniziato il vlog La volta scorsa in cui sono venuta in Puglia, alla fine non l'ho mai iniziato Perché ce l'ho sempre presa a comodo, non abbiamo fatto niente di che, di interessante Quindi ho evitato Invece stavolta, in teoria, dovremmo fare qualcosa di un po' più interessante, vero Barbara? Vero Confermo Conferma In realtà oggi è già il 18, io sono arrivata il 13 sera Però fino ad oggi non abbiamo fatto niente di interessante Quindi per quello non ho vloggato Comunque oggi finalmente Barbara si è svegliata a un orario veramente interessante Barbara? Io voglio sempre un orario interessante Gli altri giorni ci svegliavamo alle 12 con calma È vacanza! Mi devo svegliare alle femmine Vabbè, oggi andiamo al mare comunque Finalmente Alle 9 e 2 In realtà dovevamo andarci tutti gli altri giorni però pioveva per quello non sono state giornate interessanti E niente, quindi mi porto al mare Eccoci a colazione, io ho preso la brioche con la crema Ma Fede vuole stare leggero e dimagrire quindi vuota i quattro cereali Giusto? Deve dimagrire E poi abbiamo preso il caffè leccese Barbara ci fai vedere come si fa il caffè leccese? E qui c'è il latte di mandorla col ghiaccio, si prende il caffè, si versa e poi si mescola, non si aggiunge neanche lo zucchero perché il latte di mandorla è già dolce Super zuccherato Ed è buonissimissimissimissimissimissimo Confermo, io non bevo caffè a questo quanto c'è tantissimo E poi si beve ovviamente E lì c'è il mare Adesso andiamo Ragazzi, record assoluto sono le 10 e noi siamo in spiaggia Barbara è contenta Adesso abbiamo messo giusto un pochettino di crema io in faccia e basta perché non c'è voglia Andiamo in acqua perci un bagno, anche se Fede ha detto che è completamente ghiacciata con l'acqua Quindi vabbè vediamo cosa riusciamo a fare Mi sa che tipo buciamo i piedi e torniamo indietro Non è vero, ti butto in acqua No, ti prego Federico Federico vieni qua Ciao Fede Quanto manca il tuo compleanno? 23 e 44 Quindi sì, 16 minuti Quanti anni fai? 35 Allora, addirittura Sei così vecchio? Barbara, te la fai con un vecchio, hai detto che fa 36 anni No, mi dicono che ne ha 56 dalla trippa Alla trippa che piace a te perché questa donna mangia la trippa Come si fa a mangiare la trippa? Una donna che mangia la trippa, vabbè È buonissima Comunque oggi dopo la spiaggia siamo andate a casa, abbiamo dormito Sì, mi ha svegliato, cioè io dormivo beatamente, lei è arrivata Svegna, svegna, svegna È suonata tre volte la sveglia Vabbè, e siamo andate a comprare un po' di cagate È un po' di regali, è lontano È lontano Svegna, delle robe scoppiettanti, una coloncina di fiori, robe... Sì, le robe... Sì, da compleanno Sembra qualcosa di losco, così Sì, infatti, vabbè Comunque adesso manca poco e festeggiamo Sìì, ci ubriaciamo È tutta una sorpresa per cui l'abbiamo aspettato a dirvelo Abbiamo comprato anche... ho comprato il Moshan Don, che lui piace tanto Non vuoi vedere sta faccia È il primo, eh Prima della sera Auguri, auguri Yeah, accettate l'onore Dove spegnere i candeli No, Marta mi chiede, non levi quella fotocamera No Sei il protagonista del mio vlog, Fede Auguri Auguri Scusate Su 35 Auguri, la bugia Che è sta cosa? Guarda Guarda, è tipo un ciclo di tossicodipendenti, così con la bottiglia No, no, brucia, ragui È al contrario È manco io, tranquilla, non c'è Lo scotte in mano Così, giù Qua esplodono Ma quanti ne hai? Scusami Scusami Dati, auguri No Il mangiafuoco Un goccino Dai, sì, lo champagnino lo bevamo tutti Poco figlio Poco figlio Scusami Le mettiamo allora? Scusami Scusami Ma io se scendi quelle come le spengo le candeli Ma infatti non lo so Posso prendere fuoco Il polizio ha fatto Ho cercato di far prendere fuoco È ferito Aiuto La faccia La faccia è tutta Non so cosa devo fare Si può prendere tutta la corona Mi stanno arrivando alle scinti È volata Aspetta Vabbè E' tu un desiderio? Ancora è acceso Posso? Posso? Esprimo il desiderio Certo 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 Eeeeee Davide per rischiare la morte Questo è il guido Eeeeee E' spittissimo Eeeeee Eeeeee Ok ce l'abbiamo fatta Basta Andiamo tutti a casa, ciao Ho paurissimo Però la cosa positiva E che Faremo una gara solo donne Noi abbiamo detto che cosa facciamo però Barbara Ah No penso a quella che si dica Siamo ai go kart per la festa di Federico C'è anche Marta Che è abusa dei vlog Per fare Dico Vabbè Del compiano di Federico Aspetta che non sentiamo niente Ok Abusa dei compleanni degli altri per fare i vlog Eeee Invece di fare la solita festa Faremo Un giro sul go kart Cioè offriamo un giro sul go kart ai nostri amici La cosa positiva è che Non bastano i go kart per tutti E quindi faremo due gare Eeeh Una gara uomini E una gara donne Se ne vedranno delle belle Io ti butto poi pitta Perché intanto non sto guidando Tanto non riesci a prendermi Ma va va Comunque si siamo qui Questa è la pista Vediamo se qualche anima Pia ci fa qualche video Mentre passiamo Mentre ci ammazziamo Anima Pia video Anima Pia Farei video vero? Anima Pia Auguri Fede Comunque lui gareggerà con noi anche se non è una donna Fa doppio giro Sei contenta? Eh arriverà lui primo non io No è così amorevole che arriverà ultimo per me Oh Ti sbatterà fuori subito It time Grazie Spero si sentirà qualcosa perché c'è un vento allucinante E stanno aiutando a girare coi kart Comunque noi femmine Donne Come vogliamo chiamarci Abbiamo finito il nostro giro Barbara si è arrivata Sesta Ah io quarta Non ultima Io pensavo di arrivare ultima perché non ho la patente Però vabbè tu sei bravo tu c'è la patente Cioè guida il galaxy Per chi non lo sapesse è una macchina enorme Comunque adesso stanno girando i ragazzi Non so se ci hanno fatto dei video Io credo che abbiano fatto dei video Spero anch'io E nel caso ve li metto E facciamo vedere anche i ragazzi Che secondo me qualcuno si schianta sicuro Sì io ho fatto in testa coda Prima E Fabiana Lei Lei Quella donna Mi è venuta addosso Vabbè Mi è adatta così Non so se si è inquadrata però Vabbè Una ragazza mi è venuta addosso Comunque c'è la luna bellissima Vi faccio vedere C'è un po' di Foschia Infatti voi non vedete un bel niente Però fa niente Quella è la luna E lì ci sono i ragazzi Che girano Queste sono tipo le qualifiche Giri di prova Ok adesso tocca ai ragazzi E via Vai Siete fatti come prima Vediamo Vediamo E' senza 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 E guardate che ore sono Sono le quattro E' No non sono appena C'è non sto per andare a letto Ma mi sono appena svegliata Perché adesso Andiamo a scattare Andiamo a Pulignano Adesso Vi porto con me Io ovviamente Mi truccherò in macchina Però sono già pronta E spero che lo siano anche gli altri Così fra poco usciamo Perché sennò Posso morire Potrei tornare a letto Ho un sacco sonno Siamo arrivati a Pulignano E ovviamente ha iniziato a diluviare Noi dovevamo iniziare a scattare E guardate E' tutto completamente bagnato Fede fa gesti strani No ci stavo dicendo di indicare la Ah ok Fede dice di farvi vedere il tramonto delle sei del mattino Ho sposto No comunque è bellissimo Adesso andiamo a cercare un bar dove fare colazione E poi vediamo se riusciamo finalmente a scattare Siamo pronte Che ore sono? Le sette Le sette e mezza purtroppo Guardate Barbara Sembra appena uscita dalla discoteca La piccola princess Disco princess Solo che noi siamo vestiti in modo completamente diverso rispetto a lei Per ora Guardate che bella luce tra l'altro Adesso andiamo a scattare al balconcino I nostri look Faremo anche una foto assieme Ci cambiamo per strada Cioè guardate Polignano è deserta Mai Non c'è un cane Meglio Sì Vabbè facciamo veloci Noi adesso scattiamo Guardate che bello Eccolo il balconcino Questo adesso scattiamo Dopo Facciamo È bellissimo No vabbè Guardate che meraviglia Guardate l'acqua E poi ci siamo solo noi L'altra volta per fare una foto tre quarti d'ora perché c'era un casino di gente Vai Barbara è tutto tuo Abbiamo trovato dei mici Ma ciao picci Che carini Ce ne sono tantissimi Tra l'altro Giulia sta facendo amicizia con tutti Però loro sono carini Guardate Che beimosi Ma la mamma se la mamma è bella Ma lei è la mamma No c'è lo sguardo assassino Oh cari È pieno è pieno Barbara compriamo C'è scritto vendosi Compriamo Compriamo Vai tira fuori l'assegno In Puglia l'assegno si esce Si esce Esci l'assegno Esci l'assegno Ci siamo fatta una foto Con l'istax Che non uso quasi mai Barbara adesso sta cercando di fare una foto E la foto vuoi una mano? Si mi servirebbe un dito Giù aspetta Ti serve un dito Grazie mille Facciamo vedere sta foto Guardate che bella I bianco e nero sono bellissime tra l'altro E adesso tocca a Giulia Guardate che gnocca Guardate E Federico Che è super gnocco con gli occhiali di Barbara rosa Gnocco rosa Metti di su Invece di gnocco fritto Questa sarà la copertina del vlog lo sai vero? Perché non fai anche tu una foto lì sotto con questi occhiali sarebbe bene? Sì Barbara ci fai vedere tutto Uh che gnocca Wow Sosta la macchina per prendere i nuovi cambi Io intanto mi sono cambiata Forse ve l'avevo già fatto vedere Sì ve l'avevo già fatto vedere E siamo pronti Vai chiudi Sì andiamo Andiamo Pistop acqua Vai C'è acqua Pistop bar Fede dove ci porti? Eh? E si nasconde Seconda colazione Però vabbè Sono già le Dieci e mezza Quindi ci sta Abbiamo fatto colazione alle sei prima Sei e mezza Quindi Adesso vi mangio questa bellissima triccia al cioccolato Buon appetito Pausa pranzo da pescaria Ci siamo già fatti tutta la coda E adesso prantiamo Barbara e Fede hanno preso il polpo arrosto che è già arrivato Guardate che bello Io l'ho preso la volta scorta E io e Giulia abbiamo preso il panino che non è ancora arrivato Poi quando arriva ve lo mostro Intanto vi ho mostrato quelli perché così almeno iniziano a mangiare perché abbiamo un sacco fame Sono tante per me Ed ecco arrivati anche i nostri panini Guardate Ecco la tartare di salmone Non vedo l'ora di mangiarlo Giulia ha preso anche le chips Che effettivamente hanno una buonissima faccia Una bellissima faccia Come sono Giulia? Buonissime Buone? Sì Barbara il tuo polpo? Fede? Sì Adesso assaggiamo anche questo Giro Polignano finito Eravamo stanchi morti Adesso torniamo a casa probabilmente ci metteremo a dormire perché Siamo svegli già da più di dieci ore E siamo completamente morti Quindi niente torniamo subito a casa Buongiorno stiamo andando a fare colazione Io esco in queste condizioni Barbara ha detto che posso E quindi vado a fare colazione così E poi dobbiamo andare a fare un giro ancora foto E quindi dovevo lavare i capelli Non si asciugano velocemente i miei e quindi Sono così E adesso andiamo a fare colazione nel nostro bar preferito Vero? Esatto Raccontaci Che cosa mangeremo oggi? Ma no sono struccata Ma vabbè io ho il turbante Comunque mangeremo cannoli e caffè leccese come tutte le mattine Ok perfetto Io ho anche la conchiglia se c'è Che grasso No vabbè è buona però Mi ha fatto togliere il turbante Perché c'era troppa gente Si vergognava Si vergognava lei Io non mi vergogno Comunque adesso andiamo a mangiare Anche oggi in teoria sarebbe giornata di shooting Però il brutto tempo ci perseguita Adesso facciamo pausa pranzo Perchè sono già le due tipo Le tre Le tre Quindi abbiamo fame Siamo a torre dell'orso giusto? Non chiedetemi Per me sono tutto uguali E guardate il tempo è un po' quello che è Però vabbè Tanto adesso mangiamo e speriamo che migliori dopo Guardate Questa è la torta crepe Non vedo l'ora di assaggiarla Loro hanno preso il caffè le cese Io ho l'acqua Barbara sei contenta? Sì Guardate anche lei non lo dice Ma le ho regalato una collanina ieri sera Con i cini Guardate che carina Se non la prendevi tu la prendevo io Ma ce ne erano due La potete prendere? Sto scherzando Mi ho anche pulito gli occhiali Grazie perché io ho Non vedete com'è bello il riflesso adesso? Sono belli puliti Dureranno due secondi Però vabbè Perché mi cuccio le mani Sì Vabbè dai ragazzi Buon appetito Guardate che meraviglia Siamo quasi alla grotta della poesia Che è là dietro Dietro a Federico Zizzo Che faccia Guardate che mare E adesso mi sa che faremo qua una foto Volevamo farla alla grotta della poesia Ma non so se vedete quanta gente c'è Quindi mi sa che la faremo qua così Così non c'è nessuno Niente Siamo a scattare i farraglioni di Sant'Andrea E stanno passando i cavalli Guardate No se ne stanno andando E anche incontro luce perché di là c'è il tramonto Vabbè Quindi mi sa che non vedrete niente Bene Qui sotto c'è Barbara che sta scattando Oh che carina con i fiori nei capelli E questi sono i faraglioni E questo è il muore Bellissimo E qui c'è Giulia che mi sta facendo qualche foto E' il retroscena degli shooting di Barbara Qui è ancora Vorrei far notare che Barbara ha insultato per tutto il tempo Federico Perché mette queste canzoni e poi le sa meglio lei di lui Ti ammazzo Ti ammazzo Faccio assassina Ti ammazzo Ha il ciclo quindi si potrebbe ammazzarmi veramente Ma che faccia No hai fatto il video Sia le stories che il video No le stories Le ho appena messe Le hai messe Dai per carità uffa Non mi va manco lei Che bello Lady Oscar Sì Però ci vorrebbe quella dei Gen Boy E regni un bimba in più Con i capelli e roti di guancia Oscar ti chiamerai tu Ti conto a lui voleva un maschetto Ma ahimè sei nata tu Siamo arrivati a Otranto Adesso andiamo a cena e guardate che bello C'è una ruota panoramica Saliamo dopo? No ragazzi Devo cambiare Vai cambia Abbiamo fatto change scarpe Vi prego se incontrate love fashion style per strada vestita barbona o con l'infradito Fermatela chiedetele una foto E' stata uscita con l'infradito nella mia vita in 27 anni Di sera mai Comunque guardate che bella Dai dopo ci saliamo Vediamo Io un giro me lo farei volentieri Vabbè fallo il giro Poi se non ci trovi più Pazienza Ridillo Fallo il giro Tranquillamente E tu vieni su con me No no noi ce ne andiamo Se non ci trovi più Qualcuno viene su con me E da sola non salgo No i confiabili No figata Andiamo a uscire con una bambina di 7 anni Il calci in culo per i bambini Quello è lì Guardate che bello A parte la signora Vabbè abbiamo avuto signore video bomb Ma guardate che carino qua Siamo a Otranto se non ve l'avevo già detto Ma dovrei avervelo già detto Ci siamo fermati a mangiare la cuccia Che è questa qui È una specie di piadina No 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 Se non dire Non scastronerire Panino Con la pasta del pane No L'impasto della pizza Sì E ovviamente mentre uno mangia Riesce a dire gnam Buona Buonissima Lei sempre al telefono No Buongiorno L'altra sera poi non ho più finito di fare il vlog Però eravamo stravolti Non ce la facevo più E niente Siamo tornati a casa E siamo anche a dormire Spero si senta qualcosa Perché c'è un vento assurdo Però siamo a Ostuni Adesso facciamo una pausa pranzo veloce In realtà mangiamo solo io e Fede E poi andiamo a fare un po' di fotine in giro Vi porto un po' con me Vi faccio vedere un po' questa città Che deve essere bellissima Siamo alla porticina blu E Barbara sta facendo le foto E Fede Fede le fa le foto Barbara sta in posa Vi faccio vedere anche la vista Che da qua è veramente bellissima È bellissima Io mi sono già cambiata Adesso faccio anche una foto Guardate È bellissima A parte che la cittadina qua è tutta bianca È veramente pazzesca Inizio sto facendo la foto qui E poi andiamo a farne un'altra in giro Adesso non so dove ma Ne faremo altre I tentativi per le stories di Barbara Questo è il quarto Dai Per coprire la scosciata Esce Questo lo lascio lo sai vero? Marylin morro dei poveri Ci piace? Ottimo Fa niente Guardate che carine le stradine Tutta bianca poi Questa è la parte vecchia Cactus Ovunque Questo è il mio regno Io Adoro il cactus Beh non ce ne sono Vabbè Prima ce ne erano tantissime E c'è un sacco vento E io sono già stanca Troppe scale da fare Guardate che bello Questa è mia sorella Oh vabbè Andiamo Sì andiamo andiamo Siamo venuti un salto Dal vero bello Però ci Rimarremo davvero pochissimo Perché fa freddissimo Però guardate che bella che è Ci sono tutti i trulli Adesso sono anche illuminati Adesso vabbè Si è già allargata la strada Prima era stretta stretta Con tutti i trulli Guardate che belli che sono Però fa veramente troppo Troppo freddo Poi è molto in alto E c'è un sacco di vento Quindi stiamo veramente congelando Se facciamo un geletto Poi mi sa che torneremo Perché Moriamo Guardate che belli Sono tutti disegnati questi La prossima è una ballata di Kat Steven Siamo nel 1970 Bellissimo davvero Guardate come siamo in alto E' un'altra cosa 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 Guardate che bella Questo è il vero bello In miniatura E' gigante tra l'altro Anche qui souvenir presi Intanto è diventato proprio Buio pesto E adesso scappiamo a casa Anzi andiamo a cena Però scappiamo da qua Perché fa veramente Troppo Troppo freddo Finalmente a casa Dopo nove ore Di viaggio Cioè voi non potete capire E' davvero Ogni volta Un viaggio E niente Scusate Sono poi più ripreso nulla Non ho ripreso neanche Il viaggio di ritorno Però non c'era niente di interessante Anzi questo viaggio Devo dire E' stato un po' più noioso Del solito Decisamente Sarà che forse Sapevo che tornavo a casa E non tornavo più Quindi vabbè Comunque Niente Questo vlog Finisce qua Vi saluto Vi auguro Una buona giornata Buonanotte Quello che è In base A quando state guardando Questo video Io di sicuro adesso Vado a letto Perché è tardi E sono stanchissima Quindi a questo punto Vi mando un bacione E alla prossima Con un nuovo video Ciao Ciao